questo è uno buono su 3 di quell'altro tempo materale, brava, 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 brava 50 vice campione del mondo due anni dopo a 10 voto ed è lo zio di Rachele Mori che a sua volta è la sorella di Federico Mori che è ala delle zebre nonché della nazionale italiana di Rachele no, no, no Laura Casalei nonché da fare purtroppo per Giovanni Marco Fornella terza tentativa in 380 su, 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 corto gli applausi sono sempre ben graditi poi Laura Casadei 54 e 20 Emily Conte Atletica Riviera del Trenta con 56 e 94 mamma di Mio Ruanco Valsugana Trentino 58 e 37 Rachele Mori Atletica Livorno 58 e 44 Brinetti Anza Lapaia, Fiamme Gialle, 62 e 21 Cecilia Desideri, Atletica Studentesca, Pietri Andrea Milardi, 63 e 79 Chi va a lanciare sarà Sara Fantini, Cavalieri, che ha lanciato a 63, 0, 8 Buon divertimento Di quei 4 metri superati da Borsetto, da Ronzoni, da Zandarco, da Davino e da Monti Vero, Vero Dai, Lau Stanchissimo, non è più Stanchissimo Il gruppo degli atleti in galla nell'asta Grazie a tutti.